io volendo posso cancellarmi ragazzi vi aspetto alle 21 circa in live con il poker logicamente su twitch basta cliccare lì twitch aprite giocate tutto quello che volete il link in descrizione lo cliccate e velocemente andate ragazzi vi ricordo che il canale è per i maggiorenni quindi se sei minorenne puoi comunque accederci ma stai stai vieni accompagnato con qualche parente genitore o amico maggiorenne perché il poker vi ricordo non è un gioco adatto per i minorenni anche maggiorenni attenzione perché un gioco può causare dipendenza quindi giocate con prudenza ho fatto pure ieri ma speriamo che mi senta inza quindi in live alle 21 vi aspetto a hashtag balundo per chi viene da questo live questo video in live hashtag balundo mi raccomando mi prendo un occhio ciao